Ciao ragazzi, sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlare della partita che si è appena conclusa, Riverpool Chelsea, finita 7-6 doppi calci di rigore e 2-2 doppi tempi suplementari. È stata una partita combattuta, giocata alla pari, tra Riverpool e Chelsea, si è soggiocata veramente alla pari, spondendo colpo su colpo. Queste sono le partite emozionanti, anche noi quest'anno siamo sicuri che noi della Juventus faremo un calcio emozionante, credeteci ragazzi, credeteci sempre, fino alla fine. Parliamo invece di questa partita in questo momento, parliamo proprio di questa partita che è appena finita. Questa partita che è appena finita è stata interessante, praticamente è stata combattuta fino all'ultimo rigore, il rigore decisivo è stato quello di Salah, del 7-6 del Riverpool, 7-6 ovviamente i due calci di rigore, poi il rigore del 5-4, il calci di rigore è decisivo quello di Salah, e poi è stata la parata di Adrian, potere del Riverpool, su Abram, l'attaccante del Chelsea, quindi è stata una partita combattuta fino alla fine. Queste partite così combattute sono partite emozionanti, cioè ti tengono sempre lì all'attenzione, devi sempre stare attento, ti emozionano queste partite, quindi è questo il vero del calcio, anche questo ragazzi, ricordatevolo sempre. Con questo è tutto ragazzi, vi auguro una buona notte, fino alla fine, forza Juventus, ciao ragazzi! e siamo uniti per la maglia, ricordate ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, sempre, comunque, e ovunque, ciao ragazzi!